Questo spettacolo di narrazione è uno sprone a mantenere viva la memoria civile, poiché ha un dovere morale non dimenticare le violenze e i soprusi che il nostro paese ha subito. Attraverso la finzione e la recitazione sono narrati alcuni momenti e accadimenti oscuri della storia italiana e i giovani sono chiamati a raccogliere il testimone per proseguire la lotta all'oblio. Il mondo ferroviario, presente in ogni singola storia, racconta di stazioni, di ferrovieri e di viaggiatori, descrivendo il viaggio quale metafora della vita. Grazie. 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 Grazie.